ciò di cui siete a conoscenza oggi centro spirituale frattocchie a cura di vb guida la tua luce è forte come quella delle stelle ed ogni uomo che ti sia vicino lontano e anche egli un sistema luminoso che come te cerca di espandersi ma si trova bloccato dai suoi convincimenti errati che lo portano a credere invece che a sentire gli astri che sono intorno alla terra non sono soltanto dei chiari simboli e segni per voi umani sono anche fonte di energia benefica che devi imparare ad assorbire ogni elemento che si trova in cielo e nello spazio ha una capacità vibratoria in grado di produrre energia volta a caricare chiunque riesca a percepirla e a farla passare attraverso le proprie valvole vibratorie in te ci sono organi che non vedi perché non sono fatti di materia ma appartengono al tuo mondo animico e non sono visibili ad occhi nudi tu stesso produci energia e secondo l'energia che produci riesci a percepire altre forme il tuo pianeta è ricco di onde benefiche e tu stesso puoi emanare vibrazioni che possono poi essere percepite anche da altri molte sono le fonti a cui potresti attingere per ricaricarti ed essere stimolato nel produrre onde genuine il cammino dell'uomo parte dal basso ma arriverà all'alto da cui proviene per cui oggi ci sono ancora molti preconcetti e molte tematiche buone vengono scartate ma l'indirizzo verso cui l'umanità si dirige è buono e piano piano troverà la sua vera dimensione alcuni studiosi tra voi procedono senza apertura di vedute ma con punti di vista presi come verità assolute ecco perché la scienza che conosci non sa dirti molto sulla forza degli astri e delle galassie e sull'influsso energetico che tutto ciò che ha intorno ha su te continua